Francesco D'Alessio è un incubo reale nelle sere senza fine dei night club milanesi. Terry Brum se lo trova davanti con le sue invenzioni, con un'aggressività rapace e veloce D'Alessio a veicolare bugie e umiliazioni. Racconta a mezza Milano una Terry che non esiste, che si concede a chiunque. Non è vero, perché lo fai? Per la Brum è una persecuzione quella di D'Alessio, che le sbucca davanti alle feste, nei locali, negli incubi. Per venticinque volte lo rifiuta. Lui si tocca, la inchioda la sua voluttà, a volgari allusioni, Terry fugge. E il gioco ricomincia, ogni volta peggio della prima. Lui si tocca, la inchioda la sua voluta.